Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24, un'oasi sportiva immersa nella città. Le previsioni del tempo per la provincia di Messina. Oggi, sabato 5 aprile, cielo coperto con pioggia debole, temperature comprese tra i 16 e i 18 gradi. I venti soffieranno deboli da ovest su entrambi i versanti. I mari, agitati sia il tirreno che lo ionio. I mari, agitati sia il tirreno che lo ionio. I mari, agitati sia il tirreno che lo ionio.